musica disarie se me la fai equipaggiare eh perchè anche questo bisogna 3, 2, dimmi come si chiama? saluta un emiro che guida un aereo un emiro che guida un aereo kamikaze un nero che guida un aereo e non lo so penso nei miei non so un negro che guida un un aereo un africa twin no chiama pilota razzista di merda giusto così cosa dice un dino un altro dino non lo so i dati non parlano drogato di merda questa è una storia ma io mi sento che rompe il cazzo sono in mezzo alle fiamme ne ho tirato g2 ho cambiato build ce n'è uno la sopra che rompe il cazzo è uno anche qua che pusha come un cane bastardo morto confermato mi stanno tirando di tutti di più cosa è sta roba ok ho messo la build quella del vector con tutta in col soccolo minchia l'ho tirato giu l'ho tirato giu l'ho mangiato occhio dietro dietro so stop vabbè dai l'abbiamo stuprato questo cristiano qua e andiamo a prenderlo ancora dall'altra parte dall'altra parte di qua forse ce n'è un altro ancora che arriva lo prendo io da dietro lo prendo io da dietro bravo ah non avevo capito che ti hai rinito anche tu buona buona si si infatti ho visto come hai fatto infilarti ah un altro un altro qua da me fatto 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 dietro ce l'abbiamo dietro ce l'abbiamo dietro ma da dove è lì sopra lì sopra è qua sopra nooo da qua dietro mi ha sparato a me l'infame ah ma si che non è qua sopra non lo vedo ah no mi sta capiato la torretta l'infame ebbè eccolo sono qua è vicolo sopra di me è qua è mortissimo non fa danno ce n'è uno da me ce n'è uno da me due due eh un secondo che qua sto correndo oddio eh non posso non ci ho fatto sono andato a terra prima uno l'ha atterrato uno l'ha atterrato anche l'altro mi nascondo mi nascondo così potete riavrimarmi vabbè 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 vabb un altro da dietro da dietro dove abbiamo tirato potenziamento sono in 2 e sono rinato adesso quindi non vedo più nulla sto correndo verso di me questo l'ho risciato no riuniamoci prima di pushare di nuovo io arrivo sotto il tuo occhio ancora uno correndo verso l'attemato di mandato a terra quanti sono uno solo forse 1 2 oh ne ho fatti tre lì da solo tre ne ho fatti con il p416 cazzo stavo per uccidere un altro è finita la partita abbiamo detto vediamo quanti ne ho fatti io sto giro vai vai 11 punti noi e loro soltanto 2 ah boh non so 550 punti è parecchio alto prima cazzo ho fatto 750 il mio record no 1100 una cosa del genere andiamo un po' però eh guarda i danni buono i danni buono oh 7 uccidioni un milione e 3 un milione e 3 7 kill è buono no 1100 una cosa del genere